Angelo Consoli, commissario provinciale dell'Udc, coordinatore pro tempore diciamo, ma soprattutto già impegnato in campagna elettorale per la regione Campania. È un Udc che comunque non riparte da zero come si poteva temere forse qualche mese fa, a parte la sua presenza in consiglio regionale ci sono due consiglieri provinciali e una pattuglia ben nutrita di amministratori locali. È una sfida importante ma non impossibile quella di confermare un'area di centro in una provincia tradizionalmente moderata come Caserta. Allora la devo correggere perché i consiglieri provinciali sono tre e forse quattro. Al momento sono due. Al momento sono tre e poi la pattuglia degli amministratori comunali non è una pattuglia ma è un esercito. Un nutrito reggimento di consiglieri comunali e anche di sindaci. Il problema è che noi non è che dovevamo ripartire. Noi siamo sempre stati un partito che ha avuto il suo radicamento sul territorio e certe distrazioni non hanno distolto, voglio dire, quelli che erano i militanti veri, le direzioni cittadini del partito. Per cui noi non abbiamo avuto bisogno, io, Luigi Ventitto e altri amici, di immaginarci un nuovo partito. Noi lo tenevamo già. E da quel partito siamo andati avanti. E il nostro piacere è stato che ci sono state adesioni nuove, anche importanti, di personalità che si sono avvicinati al nostro partito. E collaborano con noi quotidianamente alla costruzione di un'area politica importante che, partendo dai valori del popolarismo europeo, cerca di proporre una linea politica che è svincolata dalle vecchie logiche del partitismo. Nel senso che noi immaginiamo un soggetto politico orizzontale, partecipativo, associativo, senza gerarchie di sorta, ma dove tutti quanti collaboriamo nel portare avanti, nel modo migliore possibile, una proposta politica che riteniamo autenticamente rivoluzionaria. Perché essere popolari oggi significa parlare di ridistribuzione dei redditi, significa parlare di attenzione agli ultimi, significa avere a cuore, come voglio dire, andiamo dicendo da molte parti, avere a cuore le sorti delle fasce di popolazione più deboli, cercando di costruire anche e soprattutto insieme ai giovani una speranza nuova. In questa fascia di popolazione più deboli, almeno per quanto riguarda la Campania e la provincia di Caserta, c'è un esercito, questo sì davvero, un esercito di disoccupati e di gente che ha perso anche la speranza di cercare di trovare un posto di lavoro. Come si fa a parlare con queste decine di migliaia di ragazzi, molti dei quali stanno decidendo di andare via dalla Campania e andare via soprattutto dall'Italia? Questa è la vera emergenza che dobbiamo affrontare, quella dell'occupazione e quella di restituire fiducia soprattutto ai giovani. Io ai giovani dico sempre di non farsi rubare la gioventù, perché la gioventù è una stagione nella quale si deve progettare, si deve avere anche il coraggio di volare alto e di immaginare un futuro che non sia la semplice quotidianità. Oggi viviamo un'epoca che è difficile, ma è difficile perché l'evenienza economica, la congiuntura economica, la situazione di grandi difficoltà, l'incapacità della politica di dare risposte concrete, di immaginare un futuro vero che passi per una considerazione istituzionale differente. Io prima le ho detto la distribuzione dei redditi, veda in questo paese, in questa regione, le risorse economiche esistono, le ricchezze esistono, il problema è che stanno nelle mani di troppa poca gente. I soldi esistono, ma stanno nelle mani di chi fa i soldi con i soldi. Noi dobbiamo avere il coraggio di attaccare queste cattedrali autentiche del potere e di rimettere in circolazione le risorse economiche a vantaggio di chi ha troppo poco. In questo percorso occorre accudire e proteggere le imprese vere che, voglio dire, si battono tra tante difficoltà e cercano di mantenere non solo i livelli occupazionali, ma se è possibile di incrementarli, queste imprese vanno facilitate, vanno accudite anche con una politica di assistenza bancaria e di una fiscalità protetta che deve essere cambiata. La regione Campania deve darsi un modello di sviluppo che, pur nelle ristrettezze legislative nazionali, sappia guardare alla Campania come il centro motore di un'area geografica importante perché non dimentichiamo che la regione Campania, ancorché la seconda regione nazionale, è la prima regione del Mediterraneo che oggi può diventare il grande mercato che la regione Campania deve conquistare. La regione Campania però è anche la regione nella quale, arrivati al mese di ottobre, i cittadini di questo territorio devono pagare ticket e prestazioni sanitarie. La politica sanitaria di questa regione sa meglio di me che è partita da un disastro che ci è stato consegnato. Lavoraggine debitoria per quanto riguarda la sanità Campania ancora oggi è difficilmente quantificabile. Oggi però possiamo dire che a fronte di una legislatura fatta di grandi sacrifici, alcuni dei quali, come diceva pochi minuti fa l'amico De Mita, alcuni dei quali non propriamente necessari, ma altri estremamente necessari, ci hanno consentito di riequilibrare i conti della sanità e di rimettere la nave della sanità Campania in condizioni di galleggiamento. Oggi noi possiamo finalmente parlare di un turnover dei posti di lavoro soprattutto infermieristici e sanitari, oggi possiamo guardare alla delocalizzazione di strutture sanitarie territoriali che si consentono di guardare al territorio per quanto riguarda la politica sanitaria in modo diverso. L'Udc per la prima volta dopo molti anni, come dire, naviga in mare aperto senza avere nessuna protezione, nessun tipo di padrinaggio. È una sfida ma è anche una grande responsabilità. Qual è l'obiettivo minimo che lei come coordinatore provinciale di questo partito si pone per la provincia di Caserta sul piano elettorale? Guardi, noi non abbiamo mai viaggiato con padrinaggi, forse qualcuno poteva immaginare di essere o protettore o qualche altra cosa. Noi abbiamo sempre, voglio dire, navigato, costruendo una rete, io li vedo qua di fronte a me, una rete di amicizie. La nostra politica non è stata mai la politica del potere, ma è stata sempre la politica di una sinergia forte, soprattutto umana, di persone che sul territorio si riconoscevano soprattutto in un valore forte, che era l'amicizia. Noi su questo valore abbiamo costruito un partito che a fronte della carenza di potere ha sempre avuto un consenso lusinghiero e ragguardevole. A noi non ci servono né padrini né protettorati. Ci basta il coraggio che abbiamo e ci basta la consapevolezza di avere una proposta politica autenticamente popolare che può incontrare il consenso di quelle persone che, voglio dire, ancorché sfiduciate, vogliono essere protagoniste finalmente di una svolta, senza essere né sudditi né clienti, ma uomini liberi che si battono per, voglio dire, assicurare alle generazioni future una stagione migliore.